Allora, vinci ascoltatori! Ma adesso attenzione, perché siamo arrivati al momento di cui stiamo parlando da oramai due settimane. Ci sono centinaia di migliaia di persone in questo momento che stanno aspettando con grande ansia di sapere se il loro nome verrà estratto dalle urne che fra poco porteranno qui nel nostro studio. Il grande concorso di cui vi abbiamo parlato sovente, vi ha parlato la nostra Fabrizia, qualcuno vincerà 100 milioni tasse pagate, come vincere 200 milioni. Per cui, adesso vi daremo qualche particolare, ma prima ascoltiamo quello che ha da dirci la nostra Fabrizia. Cosa faresti con 100 milioni? Hai sentito? Se sei fortunato, i 100 milioni te li regala la standa ogni giovedì con il grande concorso che va dal 26 aprile al 4 giugno. Due miliardi di premi! Sì, due miliardi di premi con standa. La standa mette in palio 60 mila premi immediati. Frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, cucine indesite serie 2000, buoni acquisto standa, bottiglie di brandy Oropilla, fustini di Perlana e in più ogni settimana tre splendide pellicce di visone canadese Annabella Pavia. Ascoltate con attenzione cosa vi dirà Mike Buongiorno tra qualche minuto. Sarà lui stesso ad estrarre ogni giovedì il superpremio settimanale di 100 milioni durante Superflash. Ogni settimana un superpremio di 100 milioni. Il superpremio di 100 milioni standa lo potresti vincere tu. In tutti i grandi magazzini, supermercati e affiliati standa, le modalità del concorso e le buste per partecipare. Ma non è finita! Ecco i nomi dei vincitori delle tre pellicce Annabella di questo giovedì. Non mancate all'appuntamento della prossima settimana!